Noi siamo venuti a Brindisi con grandi difficoltà perché ci mancano veramente tanti uomini, però ho detto a chi c'era che non doveva rappresentare una scusa perché saremmo stati inundici, anche noi. C'è il nostro percorso che dobbiamo cercare di continuare ad alimentare ed ero convinto che questa squadra potesse fare risultato, anche se è arrivato attraverso tanta sofferenza. Non è stato facile? No, assolutamente no, ma non è mai facile da nessuna parte. Allora avevo detto che avremmo trovato un Brindisi che non rispecchia la classifica che ha, che è una squadra viva, una squadra che lotta. Probabilmente nel primo tempo avremmo dovuto fare qualcosina in più perché avevamo nelle corde qualcosa di meglio da fare, non l'abbiamo fatto e il secondo tempo purtroppo, o forse per fortuna, è iniziata un'altra partita perché abbiamo subito gol, abbiamo rischiato di prendere il secondo. La squadra ha capito che doveva fare qualcosa di diverso. Ci siamo modificati nell'assetto, siamo riusciti a pareggiare, siamo andati oltre.